Mobilità ecologica, la parola d'ordine del centro-sinistra e far vivere la città senza alzare ulteriormente i livelli di inquinamento e PM10. Un tema che riguarda molto da vicino anche Vicenza e il candidato alla poltrona di sindaco, Tello Dallarosa, lancia la ciclopolitana. Un sistema di piste ciclabili che ovviamente va completato, va integrato, va modificato rispetto a quello attuale, che però sia basato sui percorsi, cioè che sia immaginato per portare da posto a posto. Devo andare a lavorare dalla riviera Berica, ci sarà la linea rossa che mi porta in centro, la linea gialla che dal centro va ai ferrovieri e la linea blu che dai ferrovieri va alla zona industriale, per fare un esempio. Ecco, l'idea è questa, costruire un sistema di piste che dia un'alternativa vera al trasporto su gomma. Ciclopolitana, un'idea innovativa, interessante, ma ovviamente non basterà spostare il traffico sulle due ruote. Per abbattere l'inquinamento in città e ripulire l'aria di Vicenza, Tello Dallarosa però ha ancora una seconda e una terza freccia da scagliare. Sviluppando caldaie di nuova generazione per i privati, dando un contributo e anche estendendo la rete di tere di scaldamento. E poi un terzo grande, come posso dire, contrasto all'inquinamento è l'albero. Ci sono tanti alberi che sono specializzati nel pulire l'aria dal PM10 e anche dal PM2,5. Questo è un grande investimento per la nostra salute e per il futuro della città. Grazie a tutti.